e la onda però facciamola passata facciamola passata e poi tale e vuole e vuole vai vai e allora mi fate male ma non sbossate chi ha bloccato la macchina ma mi fa blocco la macchina ma mi fa da volare ma che paura vai aprire vai aprire Grazie a tutti.